Lasciamo il calcio, siamo al volley, ancora una sconfitta per la Valsa Group, battuta di riserva a Piacenza per 3-1. Le parole del coach Alberto Giuliani. Ci siamo stati, abbiamo lottato, purtroppo secondo me meritavamo anche un punto stasera per come era stata interpretata la partita, per tutte le problematiche che abbiamo avuto, però non ce l'abbiamo fatta. Ecco, guardando appunto la partita nel suo complesso, un brutto primo set dopo Modena invece ha reagito molto bene, pur non potendo contare su tutti i suoi effettivi. Sì, sì, l'approccio non è stato dei migliori, devo dire che loro nel primo set hanno battuto benissimo, però insomma siamo stati un po' molli noi nella fase break e anche nel solito attacco di cambio palla, anche in situazioni non così brutte e quello ci ha un po' staccato. Poi siamo partiti invece molto bene nella fase break point nel secondo set, il set è andato via liscio a parte negli ultimi punti e poi avete visto, insomma, credo che in questo momento il servizio faccia la differenza in particolare se la squadra che comincia a battere bene riesce a fare dei break point. Questo è un po' l'andamento di questo playoff quinto posto.